Carta e penna e un attimo d'attenzione, estate, si esce, si fanno più aperitivi, più birrette, più bollicine insomma, ma cosa rallenta l'assorbimento dell'alcol? Le proteine? Doc, ma io non voglio rallentare l'assorbimento dell'alcol. E perché? Perché altrimenti non mi diverto! Ma perché non vai a giocare con le zanzare? Bene, allora, stavamo parlando dell'assorbimento dell'alcol. Esso viene assorbito per diffusione semplice, a livello dello stomaco e dell'intestino tenue. La quantità assorbita dipende solo dal volume ingerito. E cioè, Doc? Cioè da quante birre o da quanti bicchieri di vino ti fai? Chi ha detto vino? Do sta? Osvaldo, stiamo parlando dell'assorbimento dell'alcol. Tranquillo. Ah, va bene! Io comunque per beve... ce so sempre! Vabbè, comunque tutto l'alcol assunto riesce ad oltrepassare facilmente le pareti del tubo digerente e a passare nel sangue. E quindi cosa rallenta l'assorbimento dell'alcol? Dai, arriva il sodo. Uff, vabbè, il cibo. La presenza di cibo nello stomaco riduce la velocità di assorbimento. Allora faccio bene accompagnare il vino con un po' di cibo. Dentro la cantina ci sta sempre due salsicci. Oh mamma! Comunque, sì, meglio non bere a digiuno. In questo modo si va a dilazionare nel tempo gli effetti inebrianti della bevanda.